Ciao ragazzi belli, è da un po' che non ci vediamo, è da un po' che non faccio video è morto Diego Armando Maradona, non avevo fatto video perché per ora non è un bel periodo e sicuramente si dà priorità a volte a delle cose stupide, delle cose futili e poi quando ti rendi conto che a volte ti succedono cose dove ti senti mancare proprio la terra sotto i piedi non vuoi più perdere tempo a fare cose che magari non futili, però cose che ti rubano del tempo su altre cose o magari semplicemente non te la senti di stare lì a parlare, semplicemente questo no? però una cosa voglio dirla perché il PIB d'Oro o ragazzi per chi ama il calcio, in questo caso io amo tantissimo il calcio ha significato tantissimo, ha significato tantissimo per Napoli, ha significato tantissimo per chiunque possa adorare e amare il calcio se ne sono state dette tante, ho aspettato un paio di giorni per dire la mia a 360 gradi io onoro Maradona Maradona è stato sicuramente il dio del calcio Maradona ha fatto tanto bene, ha fatto tanto bene i napoletani Maradona ha fatto tanto bene alla povera gente Maradona è stato tanto grande nei quartieri di Napoli e di bene silente, ne ha fatto tantissimo questo è risposta a chi ovviamente lo offende dice che non è un esempio da seguire che è stata una cattiva persona, un uomo ovile ma la verità, la santa verità è che nessuno di noi chi per un modo o chi per un altro ha il diritto ha il diritto di giudicare un'altra persona sia in vita che in morte però se lo fai in morte, in maniera dispregiativa anche io penso che sia squallido, brutto e disonorevole per la persona in se stessa se Maradona ha fatto del male ha fatto del male solo a se stesso ha potuto fare di male sicuramente di riflesso anche alla sua famiglia perché l'ho amato e vedendo che si facesse del male è chiaro e anche logico che potesse trasmettere dolore alla sua famiglia ma non ha fatto male a te Cruciani a te Mughini a te che sei Laura Pausini da cui non mi sarei mai aspettata certe affermazioni soprattutto perché una cosa non precludeva l'altra hai parlato tanto del fatto che la morte di Maradona abbia tolto diciamo in qualche modo l'importanza della giornata contro la violenza sulle donne bene ti dico cara Laura che una cosa non preclude l'altra si può onorare il grande calciatore Maradona e si può dare la giusta importanza come tutti hanno fatto perché lo hanno fatto a una giornata per la violenza contro la violenza sulle donne solo che tutti noi dovremmo essere sensibilizzati sulla violenza sulle donne ogni giorno non solo quel giorno lì quindi è una polemica sterile inutile e anche un po' stupida direi se mi posso permettere sono una persona molto educata non mi piace chi offende sui social non mi piace chi denigra gli altri non mi piace affatto chi parla male di un'altra persona in maniera cattiva ecco perché poi si può avere un giudizio personale e su questo non ci piove assolutamente però credo che quando si commenti in maniera cattiva con brutte parole augurando cose brutte dicendo bisogna guardarsi dentro ma tantissimo dentro poi un'altra cosa che volevo dire avete fatto tante critiche al fatto della degli assembramenti di ieri del popolo napoletano che comunque ha dato omaggio al suo figlio a suo padre per i più giovani al fratello per i medi ne avete dette tante però non avete detto di quante file ci sono nei negozi media world cavoli vari e decadrone e altre cose io negato non c'entra un'azza però dico ora non voglio fare pubblicità però dico in tanti negozi ci sono delle file per acquistare col black friday l'iphone questo più quest'altro quello non è assemblamento quello è assemblamento però ovviamente è normale bisogna fare polemiche anche i media approfittano per cavalcare l'onda e fare polemiche sul fatto che si sia fatto assemblamento a Napoli io conosco il popolo napoletano gli potete dire che a volte sono come si dice irrequieti che a volte sono non si riescono a controllare ma io penso e confermo e sono convinta di quello che sto dicendo che il popolo che meglio del popolo napoletano c'è poco c'è poca gente può essere meglio del popolo napoletano perché la Napoli è bene mi ha insegnato ancora di più che cosa significa il rispetto e l'amore per il prossimo mi ha insegnato ancora di più che cosa significa porgere l'altra guancia e porgere la mano verso anche una persona estranea io già di mio lo sapevo perché sono cresciuta con due genitori grazie a Dio che mi hanno insegnato l'amore ok sto sentendo e leggendo tante cose bruttissime su Napoli ma brutte brutte e non mi va e non mi va più perché c'è la brutta gente ma anche la bella gente come c'è qui in Piemonte dove sono io come c'è in Lombardia come c'è in Veneto come c'è in Sicilia come c'è in Venezia Giulia come c'è in Trentino in Toscana ovunque c'è la bella gente la brutta gente la dovete smettere perché io da siciliana con origini fiera fiera napoletane sono una persona distinta per bene il mio cognome è Capuano io mi chiamo Lucrezia Capuano il mio cognome è napoletano mio nonno era napoletano non l'ho mai visto un giorno senza l'abito e non è l'abito che fa il monaco ma per dirvi che signore che era non l'ho mai visto parlare una volta sopra le righe non l'ho mai visto dire una brutta parola in tutta la mia sentito dire una brutta parola in tutta la mia vita ho una cattiveria ok io ne dico duemila di brutte parole ma non per questo sono una cattiva persona quindi smettetela di buttare fango su Napoli io che ci ho vissuto cinque anni nella mia vita vi posso assicurare che Maradona per Napoli è stato tanto e non solo per il calcio ma una che ne capisce che è appassionato di calcio sa sa che il vuoto che ha lasciato Diego Armando Maradona a Napoli è un qualcosa che non si può spiegare a parole è altra cosa importante io capisco il popolo napoletano che non è riuscito a fermare i propri istinti per l'amore per l'amore immenso nei confronti di quest'uomo potrete anche non essere d'accordo attenzione io personalmente se fossi stata a Napoli probabilmente sarei stata a casa per una questione di coscienza mia ma non mi metto a giudicare chi non lo ha fatto non mi permetto di giudicare chi non lo ha fatto perché un domani quando tutto sto schifo sarà finito e vi racconterò quello che vi sta succedendo io vi assicuro che c'è molto peggio a livello sanitario c'è molto peggio di tutto quello che sta succedendo e se loro se ne fottono di casi importanti che non sono sicuramente covid ma sono molto più gravi forse a volte vi assicuro che uno non ha più manco voglia di ascoltarli dopo sei mesi che ha a casa questo che vi sia chiaro a tutti il concetto ho un po' mischiato le carte perché ho aspettato i giorni per parlare di un po' di cose perché non faccio video da una vita per quanto riguarda il resto poi ci sentiremo al più presto spero e che dire chiunque rispetto l'idea di chiunque ma non rispetto assolutamente chi non è d'accordo con l'amore che è stato dato a Diego Armando Maradona sui social sui telegiornali nel mondo per le strade no semplicemente non sei d'accordo non ti sta bene sei zitto cioè non perché non puoi scrivere un tuo parere per rispetto di una persona che non c'è più e che di bene ne ha fatto tanto e non guardate solo le cose negative perché Diego Armando Maradona di beneficenza silente e non come tanti altri grandi del calcio che oggi quasi nessuno quasi nessuno è grande a livello proprio di persona Maradona l'ha fatto senza parlare Maradona abbracciava chiunque l'abbraccio per lui era la prima cosa mio nonno Raffaele che era tifosissimo del Napoli ancora oggi abbiamo nella sua stanza l'orologio del Napoli di Careca Maradona Ferrara e quanto altro mio nonno era innamorato del Napoli era innamorato di Maradona quindi io l'ho vissuta questa cosa ho vissuto l'amore per Maradona da parte dei napoletani quando Maradona era vivo e non con ipocrisia totale che quando si è vivi e quando le persone sono vive o i personaggi sono vivi non li cagliamo nemmeno poi vengono a mancare e li idolatriamo e dimostriamo grande amore e pianti no il popolo napoletano l'ha sempre dimostrato l'amore per Maradona non solo in questi giorni per fare per fare rumore perché io l'ho visto e l'ho toccato con mano a Napoli quindi non rompete le palle detto proprio in maniera proprio così e perdonate e perdonate la brutta parola ma è inconcepibile giudicare l'essere umano è veramente cattivo e io oggi più di ieri sono convinta di non essere fatta per questa terra ma sto qui e lotto fino alla fine per i miei diritti e per i diritti delle persone che amo e se è necessario per i diritti delle persone che neanche conosco perché è così che deve essere smettiamola di odiarci fra di noi smettiamola di disputare merda su sti social di merda che mi hanno rotti i coglioni questi social di merda siete buoni solo a sputare merda e veleno nei confronti degli esseri umani e di tutti basta sono stanca e stufa cercate di seminare un po' di amore seminate amore seminate amore ciao Napoli ricordati sempre che io ti voglio bene e so Diego Armando che cos'era per te per tutti noi che amavamo il calcio ciao Diego